Ciao a tutti! Oggi voglio condividere con voi i contenuti principali dell'intervento di Simon Sinek che ho avuto la fortuna di conoscere al World Business Forum di Milano. 1. Il messaggio si interiorizza e deve essere più grande di colui che lo comunica. 2. Leadership è responsabilità delle persone intorno a noi, non è un ceto sociale. 3. I collaboratori dovrebbero lasciarsi ispirare e abbracciare il cambiamento anziché respingerlo. 4. Pensare di essere bravi e capaci è salutare. Pensare di essere meglio degli altri, no. 5. Se qualcuno è capace di fare le cose meglio di noi, abbiamo solo da imparare e da migliorare noi stessi. Sono curioso di leggere i vostri commenti. Concentrazione, concentrati in azione!